. Anticipazioni Uomini e Donne del 13 aprile, Gemma lascia il programma? Cosa succederà nel corso della puntata di Uomini e Donne in onda domani 13 aprile su Canale 5? Le anticipazioni ufficiali rivelano che quella di venerdì pomeriggio. . Sarà l'ultimo appuntamento di questa settimana con il dating show di Maria De Filippi, che anche questa settimana sta registrando ottimi risultati d'ascolto su Canale 5. . L'addio di Gemma Galgani da Uomini e Donne? Ecco la verità. . Nel dettaglio vi segnaliamo che questa settimana gli ascolti del Trono Classico sono stati decisamente più elevati rispetto. . A quelli della scorsa settimana con una media di oltre 2.9 milioni di spettatori con uno share che ha sfiorato la soglia del 22 di share. . Le puntate più viste, però, sono state come sempre quelle del Trono Over che ha dominato la settimana con una media di oltre 3 milioni di affezionati spettatori che hanno permesso alla rete Ammiraglia Mediaset di raggiungere il 24 di sharing day time. . Anche questa settimana tra le protagoniste indiscusse della trasmissione c'è stata Gemma Galgani. . Che abbiamo visto in un nuovo scontro verbale dai toni molto accesi con Tina Cipollari, con la quale ormai non corre affatto buon sangue. . Tuttavia nel corso delle ultime ore si sono fatte sempre più insistenti le voci riguardanti un possibile addio della dama al programma della De Filippi, ma qual è la verità dei fatti?. . In rete circolano l'indiscrezione secondo la quale Gemma potrebbe essere ad un passo da lasciare definitivamente lo studio di uomini e donne. . Complice anche il fatto che in queste ultime settimane ha comunicato la sua intenzione ufficiale di chiudere la storia d'amore con Giorgio Manetti, dopo che si è sentita omigliata dal Cavaliere Toscano. . Spoiler Uomini e donne del 13 aprile, nuova sfilata per le dame. . Ebbene possiamo svelarvi che molto probabilmente si tratta di una bufala e che sicuramente nel corso della puntata di Uedì in onda domani 13 aprile non assisteremo all'addio della dama torinese. . Gemma proseguirà il suo percorso fino alla fine di questa stagione televisiva, dopodiché da settembre in poi non si escludono delle novità importanti per la dama e per il programma stesso. . Le anticipazioni sulla puntata di Uomini e donne di domani pomeriggio rivelano che molto probabilmente avremo modo di vedere una nuova sfilata che vedrà coinvolte le dame stesse del programma di Canale 5. . Chi sarà la vincitrice di questa settimana? Lo scopriremo domani pomeriggio. . . . . . . . Grazie a tutti.